Il rammarico forse nasce dal fatto di essere stati due volte in vantaggio e di essere stati ripresi due volte, è stata una partita veramente bella comunque? Sì sì no, mi sono divertito anch'io perché di fronte avevamo un avversario forte che gioca bene a calcio e di conseguenza ti concede anche magari spazi per andare a fargli male quindi è stata una partita svolta tutta in questa maniera dove loro hanno provato a fare la partita e noi abbiamo avuto tante possibilità nelle ripartenze per andare a fargli male forse ne abbiamo sfruttate poche per tutte quelle che ci hanno concesso. Occasioni fino all'ultimo minuto, probabilmente il Fiuggi con quello schema un po' particolare vi ha messo un po' in difficoltà sulla linea legnana? Sì abbiamo specialmente all'inizio sofferto un po' il loro palleggio con i centrocampisti che loro hanno giocato con un 4-3-1-2 poi dopo ci siamo messi a posto, ci hanno giocatori di qualità quindi la palla la giocavano bene, hanno sbagliato poco siamo stati bravi noi a chiudere spesso e volentieri bene gli spazi e a crearci delle possibilità di ripartenze che ti ripeto potevano essere sfruttate meglio ne abbiamo avuto tante, però non siamo stati abbastanza cattivi e lucidi nel fare la giocata giusta. Mister, anche al cospetto di una delle due capoliste prima del Via, il Fiuggi ha dimostrato di essere squadra ostica è andato sotto due volte e per due volte è riuscito a recuperare. Abbiamo anche rischiato di passare per la terza volta, però ci accontentiamo per quello che abbiamo prodotto perché poi io credo che insomma alla fine tutto sommato se si raccoglie un qualcosa di buono come oggi è frutto insomma di personalità e di una squadra credo che insomma abbia dimostrato che sa stare bene in campo e quindi sa che cosa vuole certamente a volte bisogna pagare pegno per delle piccole imperfezioni, lo abbiamo visto anche oggi con degli errori che hanno purtroppo messo a repentaglio il risultato e abbiamo fatto fatica a recuperare nonostante lo volevamo e si è visto in campo, quindi io sono direi molto soddisfatto di questi ragazzi che stanno ben interpretando quello che secondo me è l'essenza di questo gioco, cioè imparare a leggere i canoni di questo gioco e non improvvisare, non palle lunghe e pedalare ma cercare di capire che l'attrezzo, quindi la palla serve a fare un qualcosa di bello perché questo è uno sport di spettacolo. L'ho detto ai suoi colleghi, non mi sentirei soddisfatto o un allenatore che vince questo campionato di dilettanti pensando di essere murigno, no, sono più soddisfatto se i miei giocatori imparino da qui in avanti ad avere le letture giuste per avere un futuro in questo gioco, soprattutto per quello che riguarda gli under perché loro, come tutti quanti noi quando eravamo ragazzini, sognano di diventare dei grandi calciatori e noi allenatori abbiamo il dovere di aiutarli e quindi quando io li vedo, 2002 che avevamo oggi, 2003 addirittura che sanno interpretare bene o cercano di interpretare bene le letture di questo gioco sono molto soddisfatto.